ciao a tutti sono gabriele con questa video recensione di oggi vi voglio parlare del sony xperia z3 e della sua bellissima non stava cadendo e della sua bellissima fusion andiamo subito a vedere come ci sta questa è la fusion della origine naturalmente protegge molto bene il nostro telefono su tutti e quattro i lati e sulla parte posteriore abbiamo libero accesso alla camera molto importante in questo modello della sony xperia e non corriamo nessun rischio se cade accidentalmente non vedete molto solido che dire a questa fusion lascia il display lo schermo libero e abbiamo un 5,2 quindi non va a influire molto solida molto bello e molto elegante consigliato